Amore, sorprese e silenzio, la misteriosa storia di Gianni Amane e Demet Özdemir. Gianni Amane e Demet Özdemir, i nomi popolari del mondo televisivo turco, si sono fatti un nome negli ultimi anni nel mondo delle riviste e sullo schermo. Soprattutto larmonia che hanno raggiunto nella serie Arkangikus ha lasciato segni profondi nel cuore del pubblico. Tuttavia, la relazione tra questi due, che i fan seguono con entusiasmo, è ormai entrata in una nuova e misteriosa svolta. Presumibilmente Gianni Amane ha fatto una proposta di matrimonio a sorpresa a Demet Özdemir, ma sfortunatamente non ha ancora ricevuto una risposta a questa grande domanda. Questo tipo di notizie scandalistiche attira sempre lattenzione. Tuttavia, ogni notizia sulla relazione o sulla separazione tra Gianni Amane e Demet Özdemir ha un grande impatto sui social media. Tanto che a volte i dibattiti su questi nomi non si limitano alle pagine delle riviste, le piattaforme di social media si stanno letteralmente trasformando in arene. Ma questa volta la situazione è diversa. Perché c'è una proposta di matrimonio e c'è incertezza. Allora, cosa potrebbe nascondersi dietro questo silenzio? Perché questo passo corazzoso compiuto da Gianni Amane è rimasto senza risposta. Queste domande preoccupano molte persone oggi. Cancelletto il mondo silenzioso delle proposte di matrimonio. Una proposta di matrimonio è uno dei momenti indimenticabili nella vita di molte persone. Le proposte di matrimonio a sorpresa approfondiscono il legame tra le coppie e il momento in cui viene fatta questa proposta viene solitamente pianificato meticolosamente. In un mondo in cui una celebrità come Gianni Amane vive la sua vita sentimentale in piena vista, compiere tali passi è di grande importanza non solo per lui e Demet, ma anche per i suoi milioni di fan. Tuttavia, il silenzio dietro questa proposta di matrimonio solleva interrogativi nella mente di tutti. Non rispondere ad una proposta di matrimonio può spesso essere segno di sentimenti contrastanti. Demetho Sdemir non ha ancora rilasciato dichiarazioni sui suoi sentimenti nei confronti dell'offerta di Kenna. Allora, cosa potrebbe significare questo silenzio? Le possibilità sono due, la prima è che Demet abbia bisogno di tempo per digerire questo grande passo. Mentre sta rapidamente scalando la scala della carriera come nome famoso, un'offerta del genere potrebbe costringerlo a passare a una nuova fase della sua vita. La seconda possibilità è che l'offerta abbia creato in lui esitazione. Forse Demet ha difficoltà a prendere una decisione definitiva sul suo futuro in questa relazione. Cancelletto eco sui social media, perché i fan sono così ossessionati dal silenzio? Quando è scoppiato questo incidente, i social media sono rimasti scossi, per così dire. Tutti hanno iniziato a chiedersi perché Demetho Sdemir non ha risposto e cosa ci fosse dietro questo silenzio. L'alchimia tra Ken e Demet sin dal periodo arcangico s'ha dato al pubblico i segnali di un vero amore. Gli spettatori speravano che questi due si sarebbero incontrati nella vita reale, anche dopo la fine della serie. Le voci sulla coppia in quel momento rafforzarono questa aspettativa. Tuttavia, finora non è stata annunciata alcuna relazione o relazione ufficiale. Questa volta la situazione è un po' diversa. Una proposta di matrimonio è un evento molto più grande di una semplice notizia o voce su una relazione. Quindi i fan interpretano naturalmente il silenzio con un significato più profondo. I commenti e le analisi fatte sui social media fanno a gara per risolvere questo silenzio e dargli un significato. Alcuni pensano che Demet abbia rifiutato l'offerta ma stesse cercando di guadagnare tempo per spiegarlo educatamente. Un'altra parte interpreta questo silenzio come una strategia. Perché nel mondo delle celebrità, eventi così grandi che assumono un'aria di mistero possono suscitare un'interesse ancora maggiore. Forse Demet vuole vedere l'incidente crescere ancora di più con questo silenzio. Cancelletto il complesso mondo delle relazioni, il tempismo è tutto. Il tempismo è tutto nelle relazioni. Le risposte a una proposta di matrimonio sono spesso modellate in base al punto in cui è arrivata la relazione e ai sentimenti reciproci delle due parti. L'offerta di Gianni Amman potrebbe essere stata avanzata nel momento in cui il rapporto tra i due stava maturando. C'è però un altro fattore importante da non trascurare, entrambi i nomi si trovano nel periodo più brillante della loro carriera. Gianni Amman, che vanta una nutrita fan base soprattutto in ambito internazionale, attira l'attenzione con i suoi progetti di serie tv e diversi accordi pubblicitari in Italia. Demet Osdemir continua a portare avanti rapidamente la sua carriera con i suoi progetti in Turchia. È un grande punto interrogativo quanto tempo possono dedicare alla loro vita personale in questo intenso programma di lavoro. Forse il silenzio di Demet Osdemir potrebbe essere un processo di digestione di una decisione importante che ha preso riguardo a questo periodo della sua vita. Perché una decisione così grande non ha solo una dimensione amorosa. È inoltre necessario tenere conto di molti fattori legati alla carriera, allo stile di vita e al futuro. Soprattutto quando due personaggi famosi si incontrano, questo diventa il fulcro non solo di loro, ma anche dei media e dei fan. Questa situazione aumenta ulteriormente la pressione sulla relazione. Cancelletto processo decisionale delle donne e relazioni moderne. Rispondere a una proposta di matrimonio non è solo una questione di sì o no. Soprattutto nei tempi moderni, le risposte delle donne a tali offerte sono direttamente collegate alla loro libertà personale e alle loro aspettative di vita. Può essere abbastanza comprensibile che una donna indipendente come Demet Osdemir, che dà priorità alla carriera e allo sviluppo personale, non risponda immediatamente a questa offerta. Le donne di oggi possono scegliere di aver più voce in capitolo nelle loro relazioni e nella loro vita ed evitare di prendere decisioni affrettate. L'importanza che Demet attribuisce alla sua carriera e le sue aspettative per la propria vita potrebbero aver influenzato il modo in cui ha affrontato questa offerta. Perché un passo così importante richiede una decisione non solo emotiva ma anche strategica. Inoltre, dietro questa decisione non si fa sentire solo la vita di una persona, ma anche la pressione dei media, dei fan e persino del mondo degli affari. Cancelletto conclusione, il silenzio può sempre essere una risposta. La proposta di matrimonio di Gianni Aman con Demet Osdemir e il fatto che questa proposta rimanga senza risposta solleva una serie di domande su cosa sta succedendo tra i due nomi famosi. Mentre i fan cercano di decifrare questo silenzio, forse la parte più importante della storia viene trascurata, il silenzio a volte è la risposta più forte. Forse Demet Osdemir ha bisogno di tempo per pensare a come entrare in questa nuova fase della sua vita, piuttosto che se accettare o meno questa offerta. Il silenzio non è sempre espressione di incertezza o di fuga. A volte il silenzio è lo strumento più potente per pensare, decidere e ritrovare se stessi. Non rispondere al grande gesto di Gianni Aman è forse parte del processo di Demet di intraprendere un viaggio su se stessa. In un'epoca in cui tutto si consuma velocemente nel mondo dei nomi famosi, forse Demet sceglie di fermarsi un attimo e rispirare questo mondo frenetico. Qualunque sia l'esito, il modo in cui questi due nomi di successo continueranno la loro vita sarà seguito con curiosità sia dai media che dai loro fan. Ciò che verrà dopo il silenzio verrà rivelato nel tempo. In questo processo, forse l'unica cosa rimasta a tutti noi è permettere a Gianni Aman e Demet Osdemir di trovare la propria strada e rispettarli per vivere la propria vita al proprio ritmo. In questo processo, forse l'unica cosa rimasta a tutti noi è un'epoca. In questo processo, forse l'unica cosa rimasta a tutti noi è un'epoca. In questo processo, forse l'unica cosa rimasta a tutti noi è un'epoca. Grazie. 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 Grazie.